è capitato a tutte ci dicono qualcosa e noi non abbiamo le parole per rispondere per le rime poi continuiamo a pensarci e magari dopo qualche giorno ci viene in mente mentre ci facciamo la doccia la risposta perfetta a se solo avessi detto questa cosa qua se solo avessi risposto in questo modo però ormai sono passati due giorni e non si può tornare indietro a me succede ogni tanto così come succede a tutti e mi è successo qualche mese fa mentre mi trovavo in taxi e andavo all'aeroporto e il tassista ascoltava Radio Maria che è una radio cattolica emanata dal Vaticano e io c'ero rimasta abbastanza basita perché non sono cattolica non sono credente e però sul momento non avevo saputo cosa dire non mi era venuto in mente niente anche perché il tipo che parlava il prete parlava di cose molto generiche molto così generiche ora questa cosa mi è capitata qualche giorno fa ancora una volta mentre tornavo dall'aeroporto a casa sono salita sul taxi e immagino fosse lo stesso tassista aveva ancora una volta Radio Maria però questa volta la persona che parlava alla radio stava dicendo che l'aborto è peccato che non si deve fare che è una cosa tutte queste cose qua la cosa mi ha toccato personalmente perché io sono convinta del fatto che il diritto all'aborto sia intoccabile e che aspetti alle donne decidere del proprio corpo ed ero lì nel segnale di dietro che fremevo non sapevo cosa fare mi ricordavo ancora sì questo è il tassista che allora ho preso il mio cellulare e ho cercato su youtube un video di donne che hanno abortito e raccontano la loro esperienza hanno abortito per motivi più disparati perché c'erano delle gravi malformazioni perché c'erano state delle violenze sessuali e mi sono messa ad ascoltarlo con un volume sufficientemente alto così che si sentisse anche al sedile davanti del guidatore così come io ero costretta ad ascoltare il prete che parlava mi sono preso una piccola rivincita la cosa mi ha fatto sentire molto meglio perché mi sentivo veramente colpita mi sentivo sentivo che mi si stava facendo una violenza che mi si stava obbligando ad ascoltare qualcosa che non volevo ascoltare poi tra l'altro nel sedile di dietro il tassista aveva anche degli opuscoli che dicevano alle donne non andate ad abortire tenetevi figli per carità è un crimine è un peccato eccetera eccetera mi ha fatto sentire meglio ecco perché per una volta la risposta non mi è venuta in mente due giorni dopo mentre mi facevo la doccia